Siamo con Ezio Reinaldi, Reinaldi è un momento sempre decisivo per l'Aquila, ogni volta che si affronta un argomento della ricostruzione che non c'è di questo capoluogo così in difficoltà, siamo sempre di fronte a qualcosa di epocale. In questi giorni tutte le forze o quasi tutte le forze istituzionali e imprenditoriali si sono preoccupate della questione macro, nel senso ci si preoccupa dei grandi fondi che non arrivano qui all'Aquila, invece lei deve parlare di un aspetto un po' più piccolo che però è assolutamente decisivo per il futuro immediato di questa città. Guardi, noi abbiamo una situazione di una gravità enorme in quanto la città dell'Aquila sotto gli occhi di tutti non esiste e il sindaco chiaramente lo percepisce, lo ha percepito e ha un suo fare. Però la politica in questo non ha secondo me oggi capito e non sta capendo che ha anche delle responsabilità per le cose tra virgolette più basilari, fondamentali e apparentemente più semplici. Mi riferisco agli aspetti burocratici. Allora ritorno nell'aspetto economico che è determinante perché senza i soldi non andremo da nessuna parola. Siamo i fondi certi. Perfetto e richiamo ancora una volta a una mi auguro condivisione di idee, di progetti ma che difficilmente vediamo il sindaco da una parte, De Mattesi dall'altra, la Blundo dall'altra ancora. Quindi c'è uno contro tutti e tutti contro tutti quindi non riusciamo effettivamente secondo me a uscirne da questa situazione della politica che è sempre proiettata forse alle regionali usando e ognuno ha proprio, vedo, un proprio ritorno anche elettorale fermo rimanendo che la problematica è chiaramente sentita da tutti. Quindi noi, e ribadisco questo primo concetto, in termini di associazioni industriali e quindi di imprenditori, chiediamo e ribadiamo che vogliamo collaborare con tutti per mettere al centro la politica del fare e del lavoro. Non ci sono chiusure ideologiche oppure di parrocchia? Per poter dare una mano dove serve per fare il progetto condiviso di città che tutti chiedono. Detto ciò non possiamo non denunciare, ed è quello che ho richiamato oggi in questo intervento, che ci sono aspetti ritengo burocratici che noi paghiamo, subiamo, abbiamo però in cassa integrazione, abbiamo lavori da fare e che, questo ripeto a parte i soldi, non riusciamo a mettere in campo per problemi di carattere e di responsabilità degli enti burocratici. Il problema genio civile, che è stato più volte enunciato, va avanti da 7, 8, 9 mesi. A fine anno bisognava sbloccarlo attraverso un concorso e prendere nuove persone. C'è stata una diatriba tra provincia, regione e così via, Abruzzo Engineering, eccetera. Tra tutte le parti interessate? Una diatriba, perché ognuno aveva la sua ricetta o comunque le problematiche, sono passati mesi le pratiche da 1200, 1800, 2000 ad oggi. Parliamo di pratiche ferme per progetti, i famosi progetti cantierabili, cioè quelli già pronti. Siamo arrivati a quante pratiche ferme al genere civile? 2005, 2006, 2007, stiamo parlando di tutte pratiche sia nell'asset terremoto e sia nell'asset nuovi investimenti. Cioè l'imprenditore che domani mattina, e ce ne ho decine e decine, vogliono partire con un proprio ampliamento di attività, con una propria azienda nuova, con un artigiano... Investire. Investire. Io ho contratti fermi perché il genio civile dopo mesi e mesi e mesi non rilascia. Ma non l'autorizzazione, che ancora non si adeguano alle leggi nuove, perché questo dobbiamo spiegarlo. Non si sono adeguati, hanno fatto le proroghe. Quindi non autorizzativo, che sarebbe purtroppo ancora oggi pesante economicamente se fosse attuata la nuova norma, ma l'avvenuto deposito. Su questo ho lanciato, su questo ed altri temi legati alle concessioni e le autorizzazioni, per chi vuole aprire un'attività o ampliarla la propria attività. Dico, la nostra associazione valuterà, e stiamo facendo tutti i passi, faremo, per dire ci costituiamo parte civile. Ritengo che vada letto come un'interruzione di un pubblico servizio. Cioè non può essere che se noi sbagliamo imprenditori, o siamo carenti nelle nostre pratiche, comunque veniamo fermati e ne paghiamo le conseguenze. Ma sonente oggi non ci dà il quanto dovuto per legge, non capisco perché non deve pagare. E alla fine nessuno paga di ciò. Lei ha trovato una sorta di muro di gomma in questa storia. Adesso da qualche settimana, grazie anche all'azione del sindacato, hanno fatto una proroga dei lavoratori di Abruzzo e Ingini, ma mi sembra che... E' uno di quegli sforzi epocali che però non risolvono la questione. Certamente, ci auguriamo, andrà, spero, a snellire un po', ma stiamo sempre ad oggi nel rilascio delle pratiche a mesi e mesi e mesi. E non può essere, non può essere. E poi apro il secondo capitolo, che è il capitolo legato alla struttura tecnica di missione sulla ricostruzione. Spieghiamo perché magari qualcuno non... cioè è una filiera. E' una filiera, tutti sanno la parola concorsone, si è fatto un concorso per poter assumere delle persone. Chiaramente aveva dei tempi, c'era una logistica che doveva essere funzionale alla operatività di queste persone. Oggi abbiamo visto che piano piano sorgono e chiaramente sono sorte le problematiche. Abbiamo avuto un confronto in Confindustria anche con Aielli ed Esposito, dove hanno appunto... Parliamo di un settore tra i più complicati in assoluto del capitolo ricostruzione dell'Aquila, quindi... Ecco, che abbiamo avuto è che sicuramente questa struttura, comandata nelle due branche da Aielli ed Esposito, ha cercato di dare una nuova, tra virgolette, una nuova appunto struttura con una nuova procedura, no? Con le schede parametriche, si è discusso... La mostra scede parametrica che tanto doveva risolvere, è stata accolta con entusiasmo invece, qualche cosina... Ci sono problemi, c'è chi ha fatto i ricorsi, c'è chi ha visto che la logistica delle strutture ancora non era pronta. Cioè, a quello che era già un qualcosa che ritardava, diciamo, l'iter che a fine anno si è arrivati a sospendere le pratiche, diciamo, perché si doveva arrivare a far partire questa nuova struttura col concorsone, ad oggi abbiamo visto che alcuni mesi erano necessari e si stanno dilungando, questo è certo. Quindi c'è una tempistica in questa struttura, però possiamo anche accettare che ci siano delle difficoltà. L'importante è capire dove finiscono... E dove intervenire. Quindi voi che cosa sostanzialmente, voi in Confindustria, che cosa chiedete? Noi dobbiamo chiedere, innanzitutto, che a noi, chiaramente, alcuni argomenti possono essere più prerogativa del lance, sulla quale lasciamo chiaramente la loro azione e vogliamo insieme chiaramente attivarci sinergicamente, perché le imprese nel campo edile stanno vivendo veramente un momento difficile e quindi su... Parliamo di Ance e non di Confindustria. Lo dico perché anche su questo dobbiamo trovare sempre delle forme collaborative e sinergiche. Loro stanno facendo un'ottima, secondo me, azione di interventi su varie forme. Si è parlato, dicevo, delle schede parametriche, si è data adesso anche col settore della ricostruzione del Comune dell'Aquila, questa proroga sul contributo e quindi anche sui saldi. Però quello che emerge è che sempre... L'innalzamento della quota. Però sono sempre ricette nel brevissimo periodo, cioè con cui si tampona una situazione. Noi vogliamo intervenire nello specifico su un altro argomento, che è quello che ha fatto parte del documento che abbiamo immiato come agli organi di stampa, che riguarda questi famosi 100 milioni riservati alle attività produttive della delibera Cipe. Ecco, questo è un argomento che ci vediamo più diretto a noi, ne abbiamo avuto modo di parlare alcune settimane fa, appunto con il dottor Aielli, in un incontro. Ci siamo resi conto che questi 100 milioni, che sono importanti, hanno avuto un iter al Ministero. E ci domandiamo, ma perché non dobbiamo aprire... Questa è la domanda di fondo. Questi rubinetti. Perché non dobbiamo aprire un confronto? Perché subiamo, dico subiamo, dire indirettamente senza essere partecipati e partecipi di queste... Pensavo ci fosse invece l'esigenza di... però l'esigenza è chiara, insomma, bisogna cominciare a riaprire o in questo caso aprire per la prima volta dei rubinetti, perché altrimenti... Quindi dai 100 milioni, è questo che anche chiediamo, per carità, sono stati messi... dove sono? Ma materialmente sono stati individuati un capitolo? Benissimo. All'interno di questo capitolo. Poi quale sarà il flusso affinché questi soldi possano essere stanziati e quindi impegnati? Tutto l'iter. Ci sono veramente o può diventare veramente un altro problema che si parla di questi 100 milioni? Alla fine poi spariscono nel tutto quello che è l'iter. Ma non è che la questione aquilana sia stata leggermente messa da parte a livello... Qui parliamo di locale e quindi le colpe sono sul territorio. A livello nazionale qualche cosa sta cambiando? Il vento è cambiato rispetto alla questione aquilana? Certo, l'importante è che se qualcuno ha lavorato affinché fossero messi in una certa delibera... 100 milioni per le attività produttive, noi diciamo bene, noi diciamo grazie. Che dobbiamo dire? Dobbiamo dire va bene, chiediamo semplicemente chiarezza, quindi non vogliamo mettere il carro davanti a voi, vogliamo dire solo per carità e questo è emerso dall'incontro. Non può non parlarsene di questo. Cioè dobbiamo dire se vengono messi 15 milioni per il rilancio della filiera turistica del comprensorio del Gran Sasso, mi domando perché in Italia si decide debba prendere 15 milioni per privatizzare... Il centro turistico del Gran Sasso che è un elemento centrale nel turismo del territorio. ...di divertizione, potevamo dire, benissimo, forse oggi c'è stato ribadito, di questi 100 milioni non pensate che possono andare alle aziende in crisi, per carità le aziende stanno in crisi e rimarranno in crisi purtroppo, vista la situazione, e nessuno vuole andare a riforaggiarle, ma altrettanto è una cosa in crisi come più crisi di una municipalizzata dove andiamo a finanziare una... Il quadro è figli e figliastri, cioè il quadro è questo sostanzialmente. Parliamone, ok? Noi queste le potremmo tra virgolette subire. Non mi sta bene, è un confronto serio, un confronto tra chi... Anche qui ci sono molte risorse che vanno anche in contrasto a quello che il Confindustria nel documento Ox aveva stilato, mi riferisco alla filiera del turismo, quindi anche su questo forse si poteva essere coerenti nell'andare a impegnare dei capitoli di spesa. E poi c'è anche il capitolo di tutti i soldi, parlavamo delle piccole e medie imprese innovative spin-off, dei livelli dei cosiddetti fibre ottiche e tutto ciò che riguarda l'attività di ricerca, sono milioni, benissimo, ma noi vediamo purtroppo che tutto ciò che passa attraverso un canale di ricerca e innovazione, purtroppo viene spesso i fondi, non vengono spesi e ci hanno già dei canali appositi della comunità europea che dedica queste risorse. Quindi andarle a ripetere oggi all'interno di questa distribuzione mi sembra un po' che strida. Noi abbiamo delle incongruenze come attività produttive, non abbiamo infrastrutture adeguate che collegano... E' un problema dell'abruzzo interno. Non abbiamo le utenze adeguate, stiamo pagando tante conseguenze, avremmo preferito che su questi argomenti ci fosse un sano confronto ed è questo il richiamo che facciamo. Direi sostanzialmente, perché poi va spiegato, al sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e a tutte le parti in causa, quindi a tutte le istituzioni che in questi giorni si stanno attaccando per bandiere, per il tricolore tolto, poi rimesso e qui non c'è polemica, non c'è un'accusa frontale, nel senso sono cose che accadono. Dobbiamo spiegare, prima di chiudere, che un imprenditore in un momento di crisi terrificante come quello che vive in questo paese, il nord-est italiano, è sostanzialmente in mutande, quindi in un territorio già depresso come quello dell'abruzzo interno, ci si mette anche il terremoto. Bisogna spiegare per bene che cosa rischia un imprenditore e cosa rischia quindi tutto l'indotto che è legato a un imprenditore. Sì, noi continuiamo a ribadire spesso concetti e come con Vinduzia ne siamo particolarmente affezionati, ci sono responsabili in vari settori. Questi sono danni veri? Sì, appunto, non è che non vogliamo che i soldi vengano spesi sull'innovazione, sulla ricerca, sugli spin-off, ci mancherebbe altro. Ci sono aziende nostre specializzate che sono nel campo delle telecomunicazioni, nel campo del farmaceutico, quindi che si fa ricerca assolutamente. Dico solo che hanno già dei loro canali, hanno già per conto loro creato delle situazioni. Allora mi domando quando si vanno a impegnare risorse, e ripeto, a meno che non siano come le cosiddette baionette di Napoleone, che sono sempre quelle che girano sempre le stesse, che ci vengono promulgate per una propaganda politica e poi dopo non c'è nulla. La nostra preoccupazione può essere anche questa. Dico, se sono al centro delle risorse, rendiamo le spendibili in tempi brevi e con un'efficacia. L'efficacia è l'occupazione, l'occupazione del lavoro. Come mai, ripeto ancora una volta, quando vengono messe risorse su chi assume e vengono dati sgravi sotto forma fiscale, decontributiva, eccetera, queste risorse finiscono subito? Allora, qua stiamo continuando a voler cambiare un sistema, qualcuno si erge a chi vuole fare la città cabbrata, la smart city, la città intelligente. Tutti i progetti per carità? Tutto quello che è stato il progetto sulla nostra città dell'Aquila, il piano strategico. Anche se è mancato, una visione di insieme è sempre mancata, però si è andati a macchie. Parliamo di piano strategico, parliamo di piano di costruzione, parliamo del progetto Ox, parliamo delle smart city, parliamo della città della cultura, parliamo di una miriade di attività che rischiano di andare ognuna per conto loro senza portare un risultato concreto. Con questo non voglio parlare male di chi si sta impegnando, voglio dire, ognuno cerca di impegnarsi nella parte politica. Oggi, e chiudo, il richiamo che facciamo, e lo ripeto ancora una volta, non me ne vogliano il De Matteis, il sindaco, i Chiodi e chiunque altro esso sia, o del Corvo, dico, lasciamo da parte che dice faccio io, comando io e questo lo so io come fare, tu non capisci niente e viceversa dall'altra parte la stessa azione. Questo va messo da parte e gli imprenditori, e penso di poter parlare anche per i costruttori eccetera, rimangono a disposizione per un confronto serio col sindacato, per far sì che se vengono chiamati dalle parti, ma non una volta da una parte e una volta dall'altra, dobbiamo essere messi al centro con competenza e senza essere presi in giro. Noi perdiamo oggi risorse, abbiamo gli operai in cassa integrazione, ripeto, spesso per problemi burocratici e nessuno ha la responsabilità e paga di questo, e quindi ribadisco, dobbiamo che qualcuno si prenda queste responsabilità, perciò richiamerò questo discorso di farci parte civile rispetto ai danni che subiamo. I danni sono un conto della calamità del terremoto, un conto che le risorse dello Stato c'è una crisi generale e non ci sono, ma quando c'è un pizzico di risorse, quando l'imprenditore vuole investire con i propri denari e investire, gli deve essere permesso di investire in tempi brevi e senza lacce e laccioli, questo è il problema, vero? Questa è la questione centrale e chiudiamo. L'ultima domanda, però questo è un fatto ed è assolutamente decisivo, anche se nel breve periodo che comunque in un momento in cui si muore, insomma, un po' di vita in più non guasta, però per l'Aquila i grandi fondi, quelli che veramente la salverebbero dal baratro di quelli che non c'è traccia e lei che è un imprenditore, queste cose... Noi lo vediamo perché non ci sono imprese che vengono a ritirare materiale, ci sono cantieri fermi, ci sono molte imprese che hanno anticipato e che non hanno più oggi soldi e stanno con situazioni bancarie, quindi è un cane che si morde la coda ma è anche un po' ormai una situazione che si è avvitata e qua si rischia di far male veramente perché se a differenza, come dicevamo prima, di altri territori dove la crisi è forte ed è sentita l'Aquila potrebbe avere una condizione, insomma, un po' più particolare. Nella tragedia del terremoto qualche respiro in più. Non abbiamo una città perché nessuno lo dice, è stato fatto un articolo sul Corriere della Sera di Domenica che grida vendetta, cioè noi veniamo visti come la città che ha preso e ha rubato quasi... Immediaticamente è passato il messaggio che questa città sia stata ricostruita, tutti hanno mangiato, tutti hanno speculato e la città è rifatta. I nostri figli quando vanno in una città normale, gli si gira la testa perché non sono abituati a vedere la confusione, ma che vuol dire? Non hanno un centro, non hanno un'attività commerciale, i commercianti stanno a lasciare. Allora, questo è un dato di fatto che va purtroppo fatto capire, ogni tanto arriva la passarella, ogni tanto arriva il ministro tal dettagli che viene all'Aquila e dice oddio ma qui la situazione è preoccupante. E grazie, ma lo dobbiamo capire dopo quattro anni stiamo come stiamo e quindi in questo si può comprendere un gesto di un primo cittadino, ma lo dobbiamo fare tra l'altro con quello di riconsegnare la fascia al Presidente della Repubblica. Oggi i gesti vanno fatti non più in maniera isolata, anche se è un primo cittadino, quindi con la sua torrevolezza, vanno fatti in maniera compatta. Qui oggi stiamo vedendo la Blundo che cita le situazioni... Senatricenza Blundo del Movimento 5 Stelle. Che dice che ci sono delle inadempienze del Comune nelle proprie destinazioni degli uffici. Ci abbiamo la Regione che per conto suo sta aprendo un canale e dice ormai Barca ci ha dato... Sono i consiglieri di opposizione in Consiglio Comunale, alcuni che hanno proposto di denunciare il Governo davanti alla Corte Costituzionale. Continua nella sua azione forte della cosa. Allora, con questa situazione non andremo purtroppo da nessuna parte. È questa la denuncia. La denuncia è fermiamoci un minuto, alt, alt, sediamoci. La politica dica mettiamo da parte ogni pretesa che ognuno può avere per guardare i regionali, mettiamo davanti i numeri, le leggi. Andiamo a vedere a Roma veramente facciamola questa spedizione, ma facciamola in maniera un po' più compatta, mettendo da parte le proprie, chiamiamole, ci metteremo anche noi imprenditori in prima linea, ma vogliamo andare a capire veramente questi soldi dove stanno, come ha detto il sindaco, appoggio, vogliamo tot l'anno per un certo numero di anni, vi facciamo vedere dove vanno a finire i soldi, vi facciamo vedere i progetti tracciabili. Quindi voglio dire, su questo va appoggiata la situazione, però di questo purtroppo non ne vediamo traccia e in più ci mettiamo a quello che stiamo subendo. Ringraziamo Ezio Reinaldi e diamo appuntamento alla prossima puntata, sperando che ci siano notizie, risultati concreti, spero che qualcosa di poter, io voglio essere in questa, anche un po' positivo, perché insomma alla fine non dobbiamo comunque arrenderci. Grazie.